Aria di crisi? Non buttare i soldi, investili in qualità! Arredamenti Neziosi ti offre il meglio dei mobili al giusto prezzo! 4000 metri quadri di proposte ti aspettano alla mostra del mobile di Polcenigo e a San Giorgio di Nogaro! I tuoi soldi sono preziosi! Affidati ad Arredamenti Neziosi! www.neziosi.com Circuito Tolmezzo Track, una pista polivalente per gli amanti delle quattro e delle due ruote Disponibile per corsi, prove libere, collaudi, demo ride, test, presentazione modelli, raduni ed eventi 940 metri, tre combinazioni, uno spazio addestrativo dedicato Naviga sul sito www.circuitoditolmezzo.it e scopri possibilità, contatti ed eventi Circuito Tolmezzo Track, spazio alla velocità Buonasera gentili telespettatori, bentornati in compagnia dell'Occhio La rubrica che come sempre vi tiene informati su quanto di meglio c'è da vivere nel tempo libero E non solo Come sempre, una volta al mese, facciamo il punto della situazione per quel che riguarda i grandi eventi live La grande musica e gli spettacoli In particolare quelli organizzati dai nostri amici di Azalea Promotion È davvero un palinsesto ricco di proposte, quello di questa ultima parte del 2012 E vogliamo un attimo analizzarlo insieme quest'oggi, incominciando con il concerto di Cesare Cremonini Che si terrà martedì 6 novembre presso il Palasport di Pordenone A seguire un altro grande concerto, quello di Scancanensi, mercoledì 21 novembre Presso il Palaharrex, l'ex palazzo del turismo a Jesolo, appunto il 21 di novembre Invece per gli amanti della classica musica italiana, Massimo Ranieri Un grande spettacolo che si terrà martedì 4 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine E poi per gli affezionati della musica italiana d'autore, il Poo Lunedì 17 dicembre si esibiranno sul palcoscenico del Politeama Rossetti Presso la Sala Assicurazioni Generali, ovviamente a Trieste E' sempre nell'ottica di avvisarvi per tempo, per quelli che saranno eventi E che sicuramente insomma richiameranno grande pubblico Per cui vi diamo il tempo di recuperare i biglietti Qualora siate interessati, vogliamo parlarvi di uno spettacolo che non è musicale Ma uno spettacolo davvero divertente, ovvero quello di Aldo, Giovanni e Giacomo Che saranno a Trieste presso il Politeama Rossetti Sempre nella Sala Assicurazioni Generali Venerdì 21 e in replica sabato 22 e domenica 23 di dicembre Insomma Aldo, Giovanni e Giacomo di sicuro un'occasione di grande divertimento In quel di Trieste Questi sono solo gli eventi principali che abbiamo voluto selezionare per voi Dandovi il tempo per l'appunto di raccogliere le informazioni necessarie Eventualmente per l'acquisto dei biglietti Ma ci sono tanti altri eventi proposti da Azalea Promotion E noi vi consigliamo di visitare il sito www.azalea.it Per scoprire tanti altri concerti, tanti altri spettacoli davvero imperdibili Questo è il recap mensile per ciò che concerne i grandi live, i grandi spettacoli proposti da Azalea Noi vi ringraziamo come sempre per l'attenzione Ci rivediamo sempre su questa rete la prossima settimana Sempre alla stessa ora in compagnia dell'Occhio Ciao Torno Circuito Tolmezzo Truck Una pista polivalente per gli amanti delle quattro e delle due ruote Disponibile percorsi, prove libere con l'Audi, DemoRide, Test, Presentazione Modelli, Raduni ed Eventi. 940 metri, 3 combinazioni, uno spazio addestrativo dedicato. Naviga sul sito www.circuitoditolmezzo.it e scopri possibilità, contatti ed eventi. Circuito Tolmezzo Track, spazio alla velocità. Aria di crisi? Non buttare i soldi, investili in qualità. Arredamenti neziosi ti offre il meglio dei mobili al giusto prezzo. 4000 metri quadri di proposte ti aspettano alla mostra del mobile di Polcenigo e a San Giorgio di Nogaro. I tuoi soldi sono preziosi. Affidati ad Arredamenti Neziosi.